buongiorno a tutti e ben trovati al food and wine tourist forum siamo alla terza puntata del del forum oggi parleremo di comunicazione di come si comunica in questa stagione strana a proposito di comunicazione ci eravamo lasciati per progettare appunto il food and wine tourist forum poco meno di due mesi fa fino a due mesi fa eravamo al più o meno due milionesimo corso di accoglienza con il sorriso uno dei grandi classici del turismo che vanno avanti da una vita insomma ecco ci ritroviamo ora con questa roba qua che di sorriso ne farà vedere poco e che cambia un po tutte le regole del gioco su questo stavamo sostanzialmente facendo solo un esempio ma sono moltissime le questioni che stanno cambiando tutti ci stiamo chiedendo come si comunica in questa stagione che cosa dobbiamo andare a raccontare la parola sicurezza porta fortuna perché rassicura tutti o va soltanto a aggravare ulteriormente una situazione già complicata che tutti vivono che cosa si aspetteranno i nostri ospiti come li motiviamo come riportiamo a casa mercato siamo tutti convinti che tutti abbiano di nuovo tantissima voglia di viaggiare insomma tra poco lo probabilmente lo potranno fare ma come li riportiamo qui da noi abbiamo un mercato che inizialmente dovrà per forza cambiare sarà un mercato innanzitutto domestico poi probabilmente di prossimità insomma in due mesi sono cambiati completamente i target e molto probabilmente anche le loro attitudini al consumo le ragioni che li motiveranno di nuovo a spostarsi verso di noi quindi come andiamo a raccontargli tutto questo e come li rimotiviamo oggi abbiamo due super ospiti della comunicazione che hanno lavorato tra l'altro moltissimo in questi due mesi sul web e tantissimi di noi li hanno visti nella loro programmazione ma soprattutto sono espertissimi di comunicazione hanno dimostrato di essere davvero due vulcani della creatività e soprattutto molto bravi ad adeguarsi a tutto quello che succede sul mercato tutte le novità quindi li ringrazio fin da subito e lascio la parola a roberta milano per le presentazioni grazie a tutti appuntamento molto atteso siamo molto contenti ma prima degli attesi ospiti lo spiegone della milano quindi cerchiamo di contestualizzare su questo discorso della comunicazione che ovviamente su tutti noi anche piccoli artigiani appunto della comunicazione day by day ci sta affliggendo perché tanto inedita la situazione tanto è stato difficile comunicarla il turismo è qualcosa di diverso noi abbiamo questi due ospiti che hanno parlato per tanti giorni e poi ve li presentiamo insomma a breve di sono partiti parlando di grandi brand e sono scesi poi anche in situazioni molto più piccole a condizione che avessero un quid di intelligenza di creatività e di originalità però in realtà il turismo è qualcosa di un po più difficile rispetto ai prodotti il turismo oggi non esiste quindi un po più difficile parlare oggi di turismo rispetto a un barilla nike o altri brand che comunque hanno una produzione che continua seppur in sofferenza e il cui consumo sostanzialmente non è molto cambiato e non sarà cambiato nella fase 2 nella fase 3 proviamo a quantificare chiedo di far partire qualche slide veloce per contestualizzare nel nostro settore quindi dalla prossima che evidenzia l'impatto economico a questa è a fine marzo fatta dal WTO quindi l'europa è molto ma tutto il mondo via via è stato impattato con bilanci per ora provvisori i numeri ve li lascio nella prossima slide abbastanza significativa si vede la differenza tra diciamo l'anno precedente le sono i booking le prenotazioni degli hotel e quest'anno quindi un divario che in quel momento in cui è stata fatta questa ricerca arrivava al 75 per cento dopo l'impatto economico vediamo la slide successiva però ci sono dei segnali positivi il sentiment sempre in WTO in questo report che ha fatto fa vedere destinazione per destinazione l'impatto che c'è stato e come sta risalendo ad esempio noi in italia abbiamo avuto una prima fase in cui eravamo un po' appestati e tutti ci chiedevamo cosa dire no in questo momento come tamponare questa questa emergenza che sembrava riguardare solo noi ecco questo dato ad esempio è molto confortante perché fa vedere come si siamo ripresi come sentiment di destinazione è giusto insieme alla prima e la spagna poi siamo noi comunque nel momento in cui la crisi ha impattato tutti questo effetto rispetto alle singole destinazioni è andato è andato sparendo andiamo avanti ancora con qualche dato ecco questo è molto interessante focus right ha indagato alcuni mercati e ha visto che le paure nel riprendere a viaggiare non sono uguali per tutti mentre UK e gli Stati Uniti hanno più paura di ammalarsi eventualmente durante il viaggio è molto interessante vedere come per il mercato tedesco invece il problema più grosso è la quarantena la comunicazione deve imparare cioè deve ragionare su questi input per capire poi e gli lanceremo la palla alla fine cosa dire in maniera efficace e magari personalizzandolo per i diversi mercati ancora la slide successiva in cui questo è blog meter è molto interessante soprattutto in relazione al turismo no gastronomico che quindi è legato al consumo del food ci sono delle abitudini che noi abbiamo preso di necessità in questo periodo e che potrebbero trasformarsi o quindi semplicemente una soluzione diversa temporanea a un bisogno vecchio ma potrebbero anche una volta sperimentate alcune abitudini trasformarsi in qualcosa di consolidato questa è solo una slide che identifica degli possibili scenari da parte dei consumatori e in particolare di quei consumi che a noi interessano in particolare quello della ristorazione concludo con quella successiva che invece carina cioè l'osservatorio nomisma relativo al wine dice che il consumo è calato del vino ecco il vino in teoria un prodotto che non può essere comprato no però ha avuto un calo di un 30 per cioè per un terzo della popolazione degli intervistati perché è legato ai momenti di socialità quindi ci sono dei consumi che cambiano perché non è la stessa cosa consumarlo da soli o consumarlo in famiglia quindi manca la cena al ristorante mancano gli amici mancano gli aperitivi direi che sostanzialmente vado a concludere con l'ultima se non è questa ecco noi piccoli questo è un report sul turismo a livello mondiale come è andata che cosa hanno fatto le gli enti del turismo ma anche le gli operatori a che cosa si sono aggrappati in questi giorni in cui non si sapeva cosa fare sostanzialmente hanno tenuto i buoni vecchi social sono stati lo strumento quello che vedete sulla destra è lo strumento che sia nel prima la barra rossa sia poi quindi nell'immediato e nelle successive previsioni a 30 60 giorni non hanno sostanzialmente avuto un calo quindi è lo strumento più facile più rapido più facile nel senso che lo abbiamo a disposizione più flessibile per tenerci in contatto con i nostri con il nostro pubblico e poi la cara vecchia newsletter tutte le altre relative all'advertising al paid ovviamente nel turismo hanno avuto un calo drastico io con questa concludo però mi tengo ancora un attimo di presentazione attraverso un video degli ospiti così l'introduco poi successivamente in questi giorni crediamo insieme che cose come queste aiutino e possono aiutare le persone con cui siamo più a contatto i nostri studenti e le nostre studentesse che sono le prese con una didattica un po un po un po strano ovviamente credo che sia sotto gli occhi di tutti i brand hanno bisogno in questo momento di riflettere e mai come in questo momento forse c'è bisogno di dire la propria no trovare una propria voce per parlare però in questo momento è molto molto si bisogna stare la soglia la soglia si è molto alzata ragazzi ci vediamo domani alla stessa ora ciao 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 ecco un applauso metaforico e anche reale da parte di tutti noi e io in particolare vi devo ringraziare carosello is back non so quanti di quelli delle persone che stanno guardando in questo momento hanno avuto modo di seguirlo credo che ci sia la possibilità adesso no su youtube di recuperare perché prima era rigorosamente in diretta su instagram come avete visto dalle immagini all'epoca cioè all'orario del carosello a un certo punto molto presto nell'ambito in questa crisi questi due amici paolo iabichino e giovanni bocciartieri hanno avuto la folla idea bellissima di cominciare a ragionare tutti insieme quello che stava succedendo su che cosa potevamo comunicare è stato un punto di riferimento per me quindi sto dando anche una così un'impressione personale di cui avevo veramente bisogno in quel momento è diventato un appuntamento poi costante con qualche impegno qualche puntata purtroppo l'ho dovuta saltare perché eravamo nello smarrimento e avere due persone che ragionano e che ti aumentano quindi le informazioni e la loro chiave di interpretazione di quanto sta avvenendo è diventato veramente importante per gran parte credo dei comunicatori che hanno vissuto questo questa questa enorme crisi e loro hanno concluso hanno concluso con la fine della fase 1 e io gli ho lanciato questa proposta altrettanto folle se mi permette di fare carosello is back in tour e quindi oggi loro hanno accettato oggi sono qui con noi e li abbiamo tutti a disposizione del tema turismo tema che ovviamente hanno toccato durante le puntate perché non andavano a compartimenti stagni o per quello che stava succedendo nei nostri comportamenti o per pubblicità che uscivano e che paolo commentava però oggi sono focalizzati è un grande onore io non vi rubo la parola li lasciamo per una puntata speciale di mezz'ora e quel che succederà non lo sappiamo neanche noi penso che vedremo delle sorprese anche io e ora insieme in contemporanea con tutti quelli che stanno seguendo in streaming grazie a voi grazie grazie roberta grazie a tutti ciao ciao grazie roberta io non so vero allora io mi aspettavo di stare di là ecco l'unica cosa è quella no ok si la teniamo se n'è andata proprio allora è un po stragnante però adesso entriamo subito nel mood e siamo subito seri come siamo sempre nella trasmissione nel programma e partiamo a bomba però se ridi si capisce che ascolta dove sono i caroseller dimmi dove sono i caroseller io senza caroseller non posso cominciare sono dentro internet ma non esattamente qui con noi però vediamo delle testimonianze chiedo alla regia comunque di mandarci testimonianze se ci sono in giro o di scriverci in chat o di fare quello che fanno di solito ma stiamo focalizzati sul tema perché paolo tende a divagare allora cosa avevamo detto noi non siamo per niente d'accordo con quanto ha detto roberta milano questo era il presupposto avevamo detto così in brief perché quello che vale non è vero che quello che vale per i vale solo per i grandi brand eccetera qua è un casino no no questa è una cazzata no no è vero noi no allora però 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 c'è vedi che ci sono i cuori adesso sono adesso sono assolutamente mai visto le puntate è un po stragnante questa cosa che stiamo facendo però adesso entriamo sì perché non sanno che i caroseller sono una comunità di persone che col tempo è cresciuta e che durante la nostra diretta manda cuori a profusione questa cosa ci conforta e ci fa sentire tutto sommato nel giusto non vederli è un po' è un po' straniante peraltro ci troviamo a parlare di turismo ma che cazzo ne sappiamo no ne sappiamo cioè in realtà ne sappiamo perché l'abbiamo detto adesso vale per i grandi vale per i piccoli e è come dire l'altra cosa su cui non sono d'accordo è che il turismo è una situazione speciale perché se guardiamo il mondo della cultura come abbiamo sempre detto probabilmente e parliamo di cinema festival teatro eccetera anche lì siamo fuori dalla produzione o in momenti strani ci sono logiche di ripensamento qual è il tema che ti volevo proporre paolo ma innanzitutto come dire qual è il contesto in cui ci troviamo in particolare in italia e che è una cosa che affrontiamo da prima affronteremo dopo che vale anche per il turismo primo dissonanza centro periferia cioè uno dei grandi problemi che abbiamo in italia e lo hanno anche altri paesi è quello che avviene al centro e quello che avviene alla periferia lo vediamo adesso con delle regioni che dicono ok tutti spiaggia e il centro che dice siete matti e questo certo come dire sono una cosa che ti porteremo avanti per un pezzo rispetto alla sperimentazione secondo l'idea che si tratti di gestire l'emergenza quello che il cove ci ha mostrato per il comparto ristorazione food and wine turismo in realtà è che è la struttura di sistema che non funziona cioè quello che si sta mettendo sotto osservazione secondo me voglio sentire cosa pensavi tu paolo e che ci sono proprio delle logiche di sistema che non funzionavano già prima e che tamponavano e in qualche maniera l'esistente che adesso emergono con tutta con tutta la loro forza terzo elemento l'ansia da comunicazione la prestazione comunicativa tutti che hanno bisogno nel comparto turismo bravo eccetera di comunicare ogni ogni tipo di cosa cosa ne dici cioè questo secondo me è un punto macro che vale per tante cose ma che con il turismo come dire impatta moltissimo sulla dissonanza centro periferia mi trovi particolarmente d'accordo ed è la riflessione che facevo in tempo reale mentre roberta leggeva i dati dei paesi con più o meno paura ha paura di viaggiare no e mi faceva particolarmente pensare il fatto che per esempio un paese come UK presenta un alto indice di paura rispetto per esempio a una Germania che è preoccupata giusto Roberta mi sembrava che dicesse esattamente questa cosa che la Germania Tra l'altro Paolo non so se avete visto come dire le simulazioni di una persona ammalata in aereo cioè che si vede uno che è un portatore di covid e si vede questa cosa che contagia completamente tutta la cabina Secondo me non è rassicurante quella cosa lì poi non so perché i tedeschi questi sono gli stilemi purtroppo comunicativi che i nostri pubblicitari intendo dire tutta la classe non riesce a risolvere Io non so se ti ricordi ma quando una delle prime campagne di sensibilizzazione e prevenzione contro l'AIDS aveva questa aura violacea intorno al siero positivo che contaminava qualsiasi cosa toccasse Non c'è stato niente di più sbagliato dal dal punto di vista comunicativo che non dare un segnale di questo tipo quindi però in realtà secondo me quello che dovremmo cercare di capire è questo E vale per tutti i tre i punti che tu hai toccato cioè se io faccio un'indagine su quanta paura di viaggiare hanno in UK o quanto è diversa rispetto alla Germania Stiamo parlando di un'isola che per muoversi ha bisogno di determinati mezzi di trasporto stiamo parlando di un paese che una volta fuori dalla quarantena può uscire e girare l'Europa senza dover prendere con mezzi propri senza dover prendere Cioè secondo me quello che sta inficiando in maniera molto importante le indagini e le ricerche in questo momento sono le modalità di spostamento Cioè tu dici che sarà la rivincita dei camperisti? Cioè dovremmo guardare i soggetti che sono autonomi nel mondo? Sarà la rivincita dei camminamenti, sarà la rivincita della montagna, sarà la rivincita di chi vende e infatti stanno impazzando in televisione le ville, gli affitti delle ville, delle ville diciamo, delle residenze delle residenze dell'It Sarà, secondo me, per un paio d'anni ci sarà la rivincita di un tipo di vacanza Mentre noi stiamo andando molto in ansia su come comunicare Ma non è che il turismo prima del covid fosse il campione mondiale della comunicazione e della pubblicità Cioè le nostre pubblicità di destinazione facevano schifo anche prima Cioè l'utilizzo dei social media faceva schifo anche prima Cioè non è che adesso Roberta fa la bulla e dice Ah hanno continuato a usare i social e le newsletter E sti cazzi, è minimo sindacale Quello che viene chiesto a chi sta sul mercato di usare social media Invece sai cosa è successo realmente? Che la maggior parte, e io so benissimo che stanno attraversando un dramma Perché noi, allora, facciamo una parentesi su Carosello Isbeck Noi siamo due cazzari, ma siamo profondamente rispettosi Di delle problematiche che ci sono dietro l'emergenza che stiamo vivendo La trattiamo con leggerezza, ma non per questo non si sa Non sappiamo chi muore, chi sta soffrendo E di quante difficoltà ci sono dietro determinate attività Però vi assicuro che il 90% delle mie frequentazioni o recà Parlo dei bagni al mare, parlo dei ristoranti Hanno taciuto Non si sono assolutamente preoccupati di usare i canali sociali Ai quali io ero agganciato come cliente Non si sono minimamente preoccupati di, come dire Trovare una narrativa diversa Perché? Ma perché quel modo di usare i canali digitali I canali sociali anche prima del covid Era assolutamente claustrofobico Elina è il tramontino È la bottiglietta di vino Capito cosa voglio dire Cioè non c'è mai stato un modo Sperimentale Ecco Di provare a vedere cosa sarebbe successo Posso fare il nome? Chiedo a Roberta che non vedo Però magari è collegato Noi siamo abituati a un programma di pubblicità Quindi facciamo nomi senza problemi Ma tu ci devi dire No, descrivilo solamente Quello che fa il caffè Però c'è un resort in Maremma Gestito da un amico Non facciamo il nome Ma cacchio Ma a un certo punto Ha fatto a metà A metà Quarositena Allora Così Ah ok Perché noi tendiamo a farli I nomi sono delle cose negative Non di quelle positive Per rispetto Fondamentalmente E poi comunque tendenzialmente Devono pagare Quindi No però Robic Col suo resort Ha fatto un Ha fatto un'operazione molto bella Cioè ha chiesto ai suoi clienti Di mandare le foto Delle vacanze Dell'estate prima E la pagina Devo dirti Ed eravamo all'inizio della quarantena Non so se oggi funzionerebbe Ancora allo stesso modo Però sicuramente All'inizio della quarantena Quando un po' C'era un po' di angoscia Un po' di malinconia Vedere il feed Di questo resort Pieno delle foto Dei clienti È stato un bel Un bel vedere Cioè noi siamo riusciti Aspetta Ti faccio vedere una roba Noi siamo riusciti Noi siamo riusciti A produrre questa roba qua Spiegalilo tu come funziona Questo Ah no Perché noi fondamentalmente La regia la facciamo Così live di carta Ok Però guarda che figo Guarda che figo Che si vede dritto Si legge dritto Perché noi siamo abituati Da gli spiaggiano Che si legge al contrario Non so se Puoi girare la pagina Allora Puoi creare una dissonanza Comunque In cui va nel pubblico Perché funziona meglio Cioè Noi siamo riusciti Una roba lì No È quella roba lì È vero È vero Che abbiamo C'è Si fa comunicazione Anche molto forte L'abbiamo vista all'inizio Però l'altro problema Di cui parlava anche Roberta È Rimanere schiacciati Sull'idea di comunicazione Di crisi Per lunghissimo Tempo Quello che diceva Paolo Cioè I social media Non è l'idea Li usiamo adesso Ma cavolo Li potevi usare da sempre Sei credibile Se avevi già cominciato La conversazione Non solo La porti avanti Capito Secondo me Il tema è un altro Io sono convinto Che la maggior parte Delle strutture In questo momento Stia usando Il social media Il tema vero È come Viene usato Questo canale Perché vedi Il vero Il vero problema E qui vado ancora Contro la Milano Perché comunque Questa cosa mi piace Il vero tema Il vero tema Non è advertising Dei grandi E advertising Dei piccoli Questo è un falso problema Il problema vero è L'atteggiamento Con cui Tu fai comunicazione Piccolo Grande che sia Qual è il progetto Che metti dietro Un impianto Narrativo Perché solo Se ti muovi Secondo me Con cognizione di causa Rispetto alla conoscenza Di questi canali Riesci a spostarti Dentro narrative Per esempio Sperimentali Come quella Di chiedere Alla tua utenza In un momento di crisi Di mandarti le foto Delle vacanze Di dire peraltro A questa gente Guarda Prova a prenotare Poi vediamo Se non va Ti restituisco Ti restituisco Anche tutto Se no Veramente L'esercizio È pietistico È Di chi Chiede Al A un governo Che ci ha tolto Anche un ministero Del turismo Cioè Non è Voglio dire Non è che andiamo A parlare A Voglio dire A gente Che Riconosce L'importanza Cioè Noi siamo Seduti Su un filone Aurifero Perché Questo è Di fatto Questo è il tema Questo è il tema E Questa ricchezza È Assolutamente Lasciata Assolutamente Al caso Quindi ci sta Il Il Manifesto Fallico Che Invita Che invita A Ripartire Ma con chi Ce la stiamo Prendendo Cioè Se ci hanno Ignorato Fino ad oggi Non è che Adesso arriva Il covid Cominciano Cominciano A porre Attenzione A A A Questa A Questa Straordinaria Ricchezza Che abbiamo Quindi Secondo me Fanno bene Fanno bene Quei paesi Io mi ricordo La grecia Ti ricordi Il video Della grecia Credo L'abbiamo Fatto Vedere Durante Regi Cazzo Però è bellissima Questa cosa Che possiamo Chiedere Che abbiamo Una regia Grecia Regia Guarda che bello Questo video Grazie Ok, video fase 1, video fase 1, questo è il video stay home, ok? No, però questo è un video anche di destinazione, cioè questo è un paese che esprime un certo tipo di coralità, capito cosa voglio dire? E che dice alle sue persone, ma inevitabilmente quando fai questo genere di oggetti, cioè noi non abbiamo avuto, noi non abbiamo avuto un video di questo tipo. Noi abbiamo avuto, avere un video nazionale diciamo sull'Italia che capisco, penso che forse siamo tutti tra le poche nazioni al mondo a non aver espresso in maniera significativa. Portogallo ha fatto un video straordinario, portogallo ha fatto un video da questo punto di vista straordinario. Allora, un altro video molto bello, se vogliamo vederlo, vogliamo vedere non questo, quello della... Questo dobbiamo mettere le cuffie, quello della... Allora mettete tutte le cuffie a casa, come funziona? Perché è stupendo, è stupendo. Assomiglia un po' la sigla del programma qui. Sì, diciamo, ha questa funzione zen un po'. Senti che bello che è questo nelle cuffie. Alza volume. Ladies and gentlemen, welcome at Keukenhof. Please put on your headphones for the full HD experience. Sit back and relax. A presto. A presto. Pagano. I, anche poi,?!? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.